Ciao ragazzi, oggi un piccolo esperimento vlog. Vi volevo fare appunto una tipologia di vlog che vi avevo già proposto quasi un anno fa, sì perché l'ho fatto a febbraio, ed è un vlog pre-post-esami insomma. Ho deciso di fare questo video proprio per questo esame qua perché è una storia un po' particolare, perché adesso sto studiando per un esame che in realtà ho già provato a dare e che mi hanno bocciato. Quindi insomma, così anche per immortalare questo momento, ovviamente se l'esito dell'esame sarà positivo, se vedrete questo video vuol dire che l'avrò passato questo esame, perché non penso abbia molto senso fare questo video se poi alla fine boccio l'esame un'altra volta, speriamo di no. Ma la vedo dura, al massimo mi potrebbe promuovere con un voto basso, perché bocciarmi due volte di seguito, cioè non faccio altro che studiare dalla mattina alla sera ultimamente. Ok, vi racconto un pochino com'è andata. La materia è arboricultura generale. Questo è il mio bel librone. Non è uno tra i più spessi, nel senso che questo librone, insomma, diciamo che non dico che sia uno tra i più leggeri, però comunque 500 pagine, insomma. Ci sono alcuni che arrivano anche a 800, forse anche 1000. Vi dico, ho provato a darlo a dicembre, il 21 dicembre, perché il professore aveva detto che si poteva dare anche a dicembre, anche se non era un appello. Io ci ho provato, sono andato anche per primo, eravamo in tre quel giorno, perché si poteva fare sia il 20 che il 21. È un esame orale, è normalissimo. Sono andato, ho portato il mio argomento a piacere, ho portato l'impolinazione, argomento davvero sbagliato per poter iniziare, perché c'è un sacco di roba dietro. Ha cominciato a farmi le domande pratiche, io sono andato in palla, non riuscivo più a ragionare e senza parole ero. Quindi, sì, mi ha bocciato. Non è stato stronzo, è assolutamente no. Anzi, è stato anche più dispiaciuto di me, perché si ricorda di me che io sono sempre stato presente a tutte le lezioni, a tutti i laboratori e alle due visite che abbiamo fatto in alcune aziende. Quindi, insomma, mi ha detto, vabbè, ritorno alla prossima volta. Solo che l'appello di gennaio è il 10 gennaio e io voglio farlo un po' in oprima, perché appunto così ho tempo per studiare per l'altra materia che volevo dare il 22 gennaio. Quindi ho detto, mi puoi interrogare prima? E lui va bene, il 4 gennaio, verso le 11, andrò a riprovare, a tentare di ridare l'esame. Quindi nulla, ora siamo il 30 dicembre e sto cominciando a studiare. Cioè, non è che sto cominciando, ho già cominciato dal 27 a ripassare, il 27 dicembre. Dal 21 pomeriggio, che ero davvero sballatissimo, cioè, ero sia arrabbiato perché non avevo passato l'esame, però ero anche, insomma, un pochino più sollevato perché ho detto, vabbè, almeno queste due settimane, queste tre settimane infernali, perché ho studiato tre settimane ininterrottamente, sono, tra virgolette, finite, poi ricomincio a studiare. Questo quaderno celeste qui è il quaderno dei miei appunti. Insomma, ovviamente io studio sia dagli appunti che dal libro. L'altro video che avevo fatto, in cui facevo l'esame di biologia, che alla fine ci sono un sacco di cose di biologia vegetale, in questa materia che è arboricoltura, alcune cose si sono già fatte, solo che qui è molto più incentrato sull'arboricoltura, sulla frutticoltura, eccetera, eccetera, eccetera. Qui però è tutto collega, è tutto racchiuso in un solo quaderno, mentre a biologia erano... ho dovuto utilizzare due quaderni, anzi un quaderno e mezzo. Qui invece mi è entrato tutto in un quaderno, che ovviamente era anche abbastanza fine, perché lo utilizzavo per i fogli a protocollo. Infatti ho dovuto utilizzare altre due foglie a protocollo per poter farci entrare tutto, per non utilizzare un quaderno in più. E diciamo che ci sono riuscito. Comunque, sul libro è scritto in maniera molto più dettagliata, sono, ecco, mi cade tutto, sono più o meno 16 capitoli, sì, 16 capitoli, però noi abbiamo fatto soltanto il primo, un pochino il secondo, ma neanche tanto, il quinto, il quinto è il più lungo di tutti, che riguarda l'impulinazione, la maturazione dei frutti e tutto quanto, poi abbiamo fatto un pochino il 6, l'11, il 12 e un pochino il 13, quindi non abbiamo fatto tutti i capitoli. Comunque, io per ora, teoricamente, avrei studiato tutto, semplicemente sto qui a ripassare, a studiare con quell'approccio un po' più pratico, perché, a quanto pare, non ho potuto sostenere l'esame con quell'approccio pratico. Ho studiato tutto, ma non come voleva il professore. Quindi adesso studiare, studiare, studiare. Va bene. Ci rivediamo nei prossimi giorni. Rieccomi. Siamo nel 2018, siamo il 2 gennaio, quindi buon anno a tutti, questo sarà il primo video di quest'anno che caricherò, ovviamente. E nulla. Ieri non ho studiato, no, perché, a parte che ci siamo alzati un po' presto, e poi siamo andati a fare io, mia mamma, le mie sorelle e mia nonna, siamo andati a fare il pranzo del primo dell'anno, dal cinese, quindi una buona, una bella usanza italiana, come no, e ho mangiato come un pazzo, anche lì, e quindi il pomeriggio sono tornato a casa, sarà la digestione, ma ho qualcos'altro, però mi è preso l'abbiocco, forse anche perché non avevo dormito tanto bene, e quindi non ho studiato per niente, tanto ho detto, vabbè, tanto alla fine è sempre lì. So tutto, però a volte ho questi vuoti di memoria, ho paura che mi faccia le domande troppo pratiche come l'altra volta, solo che adesso ho delle domande pratiche dell'altra volta, adesso le ho capite, sono andato a ristudiare qualcosa e mi sono accorto che quell'argomento che mi aveva chiesto, quelle domande pratiche che mi aveva chiesto sull'impulinazione, non le avevo capite, cioè riguardando le slide che ha messo su internet, e riguardando i miei appunti, mi sono accorto che ho fatto un casino con gli appunti in quell'argomento lì, quindi anche se mi richiede le stesse cose dell'altra volta, le so, quindi una certezza ce l'ho, farò sicuramente meglio dell'altra volta, anche se mi boccia, almeno sicuramente l'avrò fatto meglio dell'altra volta. Quindi, mancano due giorni, e andrò a fare l'esame, cioè abbiamo domani, tutto il giorno, e domand'altro, alle 11, lo farò. Sì, ho ancora un pochino d'ansia, però non così tanto rispetto all'altra volta, quindi, niente, ci vediamo domani alla vigilia dell'esame. Finalmente ho finito, è andata, per fortuna, basta, un sacco d'occhiaie da ieri sera, comunque ho preso 23, un voto abbastanza accettabile, diciamo, lo accetto perché, più di così se non me non riesco a prendere, già essere stato bocciato, insomma, il 23 l'ho accettato perfettamente. Niente, mi ha fatto delle domande, alcune sono state un po' stronze, daudere la verità, però comunque, insomma, mi sono accorto che devo cominciare a studiare con un approccio un po' più pratico, non così teorico, devo ragionare meglio, ecco. Quindi nulla, sono totalmente rilassato, adesso aspetto il pullman, e l'autobus, siamo a Sesto Fiorentino, qui c'è il polo scientifico, e dovrebbe arrivare, sì, è arrivato ora l'autobus, quindi, che casino, di solito non ci passa nessuno qui, e quindi nulla, ci vediamo al prossimo video, grazie per avermi seguito, ciao!